Musica Buongiorno e bentrovati con il Tg del mattino di TRG e con le notizie di oggi sabato 2 luglio 2022 Inflazione record per la crisi e questo il titolo in apertura con il messaggero balzo dell'8% come nel 1986 Stangata da 531 euro sulle famiglie per viaggi e alimentari Scudo di protezione per le pensioni, rincari anomali dei carburanti, c'è il faro della finanza E poi addio al reddito al terzo rifiuto anche nel privato è stata estesa la norma sul no agli impieghi pubblici PD e Italia Viva votano con il centrodestra Movimento 5 Stelle contrari L'hanno già ribattezzata la norma spazzadivani votata da tutti anche da PD e Italia Viva tranne che dal Movimento 5 Stelle Se un privato chiama a colloquio un sussidiato e gli offre un'occupazione Questa offerta sarà considerata alla stregua di quella fatta dal centro per l'impiego Che cosa significa? Che il percettore del reddito potrà dire no soltanto a due di queste offerte Poi o accetta o perde il sussidio La fotonotizia del messaggero fuori gioco con il CIP Ai mondiali in Catarra sistema semiautomatico ci saranno i sensori nel pallone Un arbitro proprio che controlla al video un'azione di gioco sottoposta al VAR Da Gualdo Tadino l'anticipazione scritte no vax sotto casa del sindaco Presciutti Che con le dirette social chiedeva durante il covid comportamenti accorti E poi invece con la nazione l'apertura è legata alla politica Conte insiste valutiamo se aprire la crisi sulla permanenza al governo decideranno gli organismi dei 5 Stelle Lo strappo di Di Maio suggerito da Draghi ne parleremo Lunedì il faccia a faccia decisivo con il premier Intanto Toti dice serve un polo liberale ma al centro vedo troppi personalismi La fotonotizia dedicata a Italia si Italia no Quella che si divide sugli impianti energetici Ravenna vuole lab energetico invece Piombino si ribella al gas Dalle città dell'Umbria anche con la nazione le anticipazioni La regione VAR una stretta sui prelievi da laghi a fiumi Si parla di mobilità e futuro con il piano da 600 milioni di euro E poi il covid che in Umbria vola e la quarta dose resta un flop Vediamo allora tutte le notizie più nel dettaglio per quello che riguarda la nazione Primo piano spesa più cara di 531 euro Sulla benzina intanto ora indaga la guardia di finanza Verifiche da nord a sud il sospetto è quello che ci siano manovre speculative sui carburanti Le ricadute della corsa dell'energia sui costi di alimentari, casa e igiene Pasta il costo sale a 25 euro leggendo i propri numeri con le grafiche del messaggero E' uno degli alimenti più presenti sulle tavole degli italiani E il rincaro peserà anche sulle tasche dei consumatori per 25 euro all'anno Colpa dell'aumento dell'inflazione ma c'è anche il pane che costa 29 euro Fra i pezzi che stanno aumentando per le verdure si spendono 52 euro in più E invece per il gelato altri 9 euro Dicevamo i controlli poi ai distributori Nel 2022 le fiamme gialle hanno effettuato 2600 interventi a tutela del mercato dei carburanti Soprattutto in materia di accise hanno sequestrato più di 3630 tonnellate di prodotti energetici E poi il focus, gli irriducibili del contante in 3 su 10 non hanno il post E sul web le guide per i furbi perché da ieri è partita il via alle sanzioni da 30 euro Per tutti quegli esercizi commerciali che non hanno il post Ma i commercianti chiedono commissioni azzerate sulle mini transazioni E poi anche con la nazione la stangata prezzi a livelli record dal 1986 Parte la corsa per salvare i salari dagli alimenti alle bollette Dal tempo libero alle vacanze L'inflazione a giugno dilaga toccando quota più 8% I consumatori dicono è una mazzata da 3200 euro all'anno per le famiglie E ora il governo studia interventi sugli stipendi Più nel dettaglio i rincari e i timori delle famiglie con le grafiche della nazione La rivelevazione Ipsos per Feder Distribuzione La preoccupazione riguarda il 76% degli italiani Un terzo degli italiani non è disposto a pagare di più per prodotti di qualità Quindi un terzo ovvero il 32% Il 39% dice che ridurrà i consumi Mentre 9 italiani su 10 adotteranno azioni di risparmio L'89% intanto per quanto riguarda i cittadini E la loro condizione economica Si dicono insoddisfatti Il 51% della popolazione A marzo era il 48% A gennaio il 46% Dunque un malcontento e un'insoddisfazione Che è andata aumentando 6 italiani su 10 non sono riusciti a risparmiare Quest'anno il 53% Individua la principale causa nell'aumento del costo della vita Il 43% Un più 7% rispetto al marzo 2022 Ritiene che non può permettersi di acquistare ciò che gli piacerebbe E sempre con le pagine della nazione Le nostre tasche Il paese dei troppi no Che blocca anche le fonti alternative L'Italia può produrre energia Ma lasciateci fare gli impianti Lo dice Agostino Re Rebaudengo Di 61 anni Che è il presidente di elettricità futura Ovvero l'associazione che rappresenta oltre il 70% del mercato elettrico Che ha parlato proprio del piano per le rinnovabili Con cui si può tagliare l'importazione di gas Perché la situazione è critica Ma non mancano i segnali positivi È la prima volta detto Re Rebaudengo Che siamo tutti d'accordo sulla necessità di accelerare Che abbiamo un piano condiviso da tutti Il ministro Cingolani ha inoltre ribadito Ha invitato tutti a fare il più possibile Non solo per raggiungere l'obiettivo della transizione energetica Ma anche per superarlo Basta paure Per 85 gigawatt serve lo 0,3% della superficie del paese La Germania destina il 2% del suo territorio agli impianti eolici E l'intervista proprio della nazione Su come sul fronte gas La situazione europea stia diventando pesante Ma è necessario affinché il governo lavori sodo Proprio per diversificare le fornitore Ma passiamo ora alle notizie che riguardano la nostra regione Siamo ancora alle pagine della nazione In apertura il covid vola e la quarta dose frena Aumentano i ricoveri e il tasso di contagio Ma su 10 over 80 soltanto uno ha fatto l'ulteriore richiamo La fotonotizia con il ministro Giovannini che presenta il piano L'Umbria si muove con 600 milioni di euro Intanto è partito in Umbria Erlink E poi invece dalle anticipazioni Le notizie che vedremo fra poco La morte dell'imprenditore Renzo Gatti a Gualdo Tadino Chiuse le indagini Parliamo dell'imprenditore che purtroppo morì schiacciato da un muletto E poi in campo anche le associazioni per truffe rapine Così difendiamo i nostri anziani Perché torna l'allarme furti un po' in tutta la regione A Foligno condotto in carcere e ai domiciliari Ma tenta di fare nuove estorsioni Con il Corriere dell'Umbria invece di nuovo in apertura I treni ad idrogeno pronti 530 milioni Il ministro dei trasporti Giovannini ha annunciato la firma dei decreti per la sperimentazione Sono stati fermati i decreti per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario In ambito locale e regionale Tra i progetti a cui viene data un'accelerazione c'è anche quello del collegamento ferroviario Tra Terni, Rieti, L'Aquila e Sulmona È quanto annunciato proprio dal ministro Enrico Giovannini Che ieri è intervenuto a Perugia per parlare di PNRR E delle opportunità al PNRR collegate La fotonotizia del Corriere è dedicata a questa bella iniziativa Di tre carabinieri che hanno consegnato a mano a Babbo Natale Le letterine scritte da ben 70 bambini Hanno fatto un viaggio di oltre 12.000 km in moto Gubbio Finlandia in moto proprio per consegnare le lettere di Natale E poi invece un argomento di stretta attualità In apertura sempre con il Corriere Siccità, firmate ordinanze per ridurre attingimenti Limitazioni all'uso in riguo nei principali fiumi e laghi Individuate, giornate e fasce orarie di stop In cinque mesi c'è il meno 45% di precipitazioni Con il messaggero invece in apertura La sanità covid, altri 1.511 casi Così la regione torna ad alto rischio Segnalate due allerte Il tasso di positività dei tamponi E il personale troppo ridotto Nei servizi territoriali Ancora tra i titoli in apertura Gualdo Tadino, le scritte Novax vicino a casa Del sindaco di Gualdo Tadino Presciutti Il sindaco in prima linea contro il virus Allarme furti Ladri in casa quando ci sono i proprietari Paura da Perugia a Spoleto e stavolta i colpi si sono effettuati In campagna La fotonotizia con il Due Mondi In cui la danza si fa in tre Parliamo del grande festival che è in corso a Spoleto E poi invece le nuove ordinanze Sisma arrivano 700 milioni di euro per il rilancio Vediamo più nello specifico allora tutte le notizie con i vari quotidiani Torniamo alle pagine della Nazione Le sfide dell'efficienza Una pioggia di milioni in Umbria Ma bisogna guardare oltre il PNRR Il ministro Giovannini presenta il piano per la regione E dice è necessario programmare già i fondi Oltre il 2026 E' stato partecipe alla sala dei notari Per la tappa ombra d'Italia domani Dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza Il ciclo di incontri che sono proprio promossi dal governo Giovannini ha detto in totale Sono previsti investimenti per oltre 600 milioni di euro in Umbria Per infrastrutture e mobilità sostenibili Che spaziano dalla transizione ecologica del trasporto urbano Alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche Senza scordare fondi per oltre 100 milioni Per il rafforzamento della medicina territoriale L'aumento dell'offerta educativa per la prima infanzia E delle borse di studio nelle università dell'Umbria L'altro commento è quello della presidente Tesei Che ha detto non possiamo fermarci Bisogna agganciare l'alta velocità Lo ha detto proprio la governatrice Sempre in occasione della visita del ministro Giovannini E il sindaco Romizzi invece punta tutto Con Perugia sul metrobus Mai viste tante risorse per la città Ha detto Romizzi L'importo degli investimenti previsto nel piano triennale Delle opere pubbliche del comune di Perugia per il 2022 Ammonta 227 milioni Cinque volte tanto rispetto ai piani degli ultimi sette anni E dieci volte tanto rispetto a quelli precedenti Sono risorse, ha detto il primo cittadino Destinate a cambiare il volto della nostra città Tra le sfide dell'efficienza c'è quella di Air Link L'aeroporto è più vicino a 5 euro Perché è partito con il pienone il servizio che prevede Per ogni decollo o atterraggio Un autobus in grado di collegare con lo scalo di Perugia e Assisi La strategia, le principali stazioni ferroviarie Umbre del Senese Aretino, Valdichiana Saranno collegate allo scalo di Sant'Egidio E sempre in tema trasporti Terni sul Mona, treni a idrogeno C'è il via Libera La firma dei due decreti per complessivi 530 milioni di euro Per le sperimentazioni ferroviarie sull'idrogeno E anche per le stazioni autostradali e stradali Per il trasporto su gomma Sono un importante passo in avanti Lo ha detto ancora una volta il ministro Giovannini Sempre con le pagine della Nazione in apertura Il Covid che vola Ma la quarta dose invece che non decolla In Umbria solo un over 80 su 10 l'ha fatta Eppure i ricoverati sono saliti a quota 180 L'incidenza è a 823 E il tasso di contagio all'1,5 Le proroghe in campo Il nucleo epidemiologico regionale Il CTS, il comitato tecnico scientifico Addio alle USCA Ma è subito polemica Nello specifico si legge Fino a dicembre saranno attivate le EUCA Unità di continuità assistenziale Ma su questo polemizza il consigliere regionale del PD Fabio Paparelli Che dice La mancanza delle unità speciali per i controlli Covid a domicilio Provocherà un ingolfamento degli ospedali e dei pronto soccorso Il tutto mentre la normativa alle EUCA Cioè queste unità di continuità assistenziale È ancora lontana dalla concretezza applicativa e funzionale Asl 1 Niente rinnovo a 75 sanitari Sistema ancora più in affanno Si tratta di infermieri di osso Che sono stati impiegati anche durante la fase di emergenza sanitaria E di supporto alla struttura Ecco, non sono state rinnovate queste posizioni E su questo intervengono i sindacati con forza Ospedali Evitare il sovraccarico Niente positivi a Perugia Eterni Il punto è stato fatto dall'assessore Luca Coletto Che ha stabilito di potenziare i posti letto dedicati ai malati Covid In ospedali diversi da Perugia Eterni Dunque per il momento sono stati riattivati 6 posti letto in più a Pantalla 12 a Foligno E 6 a Gubbio Ed invece è cancellato il reparto infermieri Un errore funziona bene Sulla sentenza del Consiglio di Stato Che cancella l'unità di agenza infermieristica all'ospedale di Perugia Il presidente dell'ordine degli infermieri Nicola Volpi Ha sottolineato che è strategica per l'assistenza ai soggetti anziani con patologie croniche Dunque l'UDI si occupa della gestione di pazienti clinicamente stabili in fase post-acuta Che provengono dalle unità operative in cui sono stati trattati per l'evento acuto E hanno iniziato il loro percorso assistenziale Un'unità dunque assolutamente strategica Tra i fatti di cronaca Scusi sono una badante Scippa un pensionato Anziani ancora nel merino Donna vicino alla vittima E fugge in via dei filosofi a Perugia Francesco Berardi dell'associazione Filosofiamo Dice ecco come proteggervi Stilando proprio un vero e proprio vademecum Che è stato stampato e distribuito per la sicurezza È utile Ha detto il presidente Sia che ci si trovi in casa Ma anche in strada e in auto E poi sempre a Perugia A Fontiveggio e Spintonagli agenti Un straniero è stato denunciato Ancora le notizie Le storie di Nera Più di 900 kg di droga sequestrati in un anno I dati sono quelli del Viminale I quantitativi li evitano del 400% La marijuana è al primo posto Poi seguono hashish, eroina e cocaina Denunciate 385 persone 16 le vittime Ed invece schiacciato e ucciso dal muletto A Gualdotadino Operatore della GRU Finisce nei guai Parliamo dell'incidente mortale In cui ha perso la vita Renzo Gatti Si sono chiuse le indagini La stagione torrida Sport, musica e aperitivi Esplode l'estate in piscina A Perugia Vacanze in città e al fresco Con le proposte di amatori Nuoto Libertas Ma fra le altre notizie con La Nazione Si parla anche di siccità C'è la stretta sui prelievi La regione corre ai ripari Due ordinanze per limitare l'utilizzo di laghi e fiumi Soltanto in alcuni giorni Il provvedimento scatta lunedì E resterà valido fino al prossimo 30 di settembre Dettagli, limiti validi anche a laghetti invasi Deroghe per enti pubblici E chi usa impianti a goccia C'è la polemica La guerra dell'acqua Morroni dice Lago e Valle Sud Progetti diversi Diga sul Chiascio L'assessore regionale fa chiarezza Sulle polemiche sollevate dai sindaci Del Sagrantino Sull'utilizzo dell'invaso Morroni ha detto Le acque dell'invaso Della diga di Casanova Sul fiume Chiascio Nel territorio comunale di Valfabbrica Alimenteranno gli impianti Dei distretti irrigui Della valle Umbra Quella dell'immissione Delle condotte Che alimentano il bacino del lago Trasimeno Allo scopo di fronteggiare L'abbassamento del livello idrometrico È una mera ipotesi di lavoro Al momento allo stato embrionale Che prende spunto Da uno studio Del Dipartimento di Ingegneria Dell'Università degli Studi di Perugia Risalente a molti anni Orsono Tale ipotesi è stata Ed è tuttora Al centro di un confronto Che vede impegnati L'Unione dei Comuni Del Trasimeno E la stessa regione Dell'Umbria Dunque l'assessore Che cerca di fare Proprio chiarezza Su tale aspetto Ed invece Per quanto riguarda il meteo L'Umbria Torna nel forno Perché la temperatura Salirà di nuovo A 40 gradi Domani Nuova ondata E nuova fiammata Di calore Dunque poi Da mercoledì È possibile Una seria rinfrescata Siamo ancora Alle pagine della Nazione Si parla anche di sport Tra le notizie Che riguardano l'Umbria Quella del volley Sir Perugia Ecco Anastasi Sono qui per vincere È stato presentato Il nuovo allenatore Dei Block Devils Il presidente Gino Sir Ci dice Vogliamo altri trofei E dare soddisfazione Ai tifosi Ma sentiremo proprio Tutto questo Più nel dettaglio In un servizio Nella pagina sportiva Intanto vediamo anche Le notizie Dalla regione Con il Corriere dell'Umbria In primo piano Di nuovo Il PNRR 530 milioni Per i treni Ed idrogeno Lo ha detto Il ministro Giovannini Firmati decreti Per sperimentazione E da Perugia Il gasdotto Snam C'è il parere positivo Con le prescrizioni ambientali L'ok Della giunta regionale In una delibera L'Umbria Sarà interessata Per 125 chilometri 5 tronchi È un'infrastruttura Da realizzare a scaglioni Tutto interrato Fuori Previste Solo le recinzioni Scattano limitazioni Agli attingimenti Per fiumi Langhi E falde sotterranei Lo abbiamo detto È stata firmata L'ordinanza della regione Per far fronte Alla siccità Olio Mannelli Eletto presidente Di Aprol Umbria L'imprenditore Il 44enne Di Bettona Oggi poi Partono invece I saldi estivi E il primo giorno È prevista Una spesa Di 88 euro A testa Queste sono le previsioni Dell'ufficio studi Dell'ufficio studi Della Confcommercio Sempre per le pagine regionali Con il Corriere Di nuovo il Covid I ricoverati Al 25,7% Del totale L'Umbria E Maglia Nera Per il sociale È stato finanziato Il bonus Nuovi nati Nel 2022 Per 800 famiglie Ci sono 500 euro Una tantum E il provvedimento È preso all'interno Dell'assestamento Di bilancio Di Palazzo Donini Vediamo anche Le notizie con il messaggero In primo piano Covid Con i ricoveri E contagi In risalita L'Umbria È a rischio alto Il monitoraggio Settimanale del Ministero Sono state fatte Due allerte Si cita Le ordinanze Limitate gli atteggiamenti Gli attingimenti Stop Prelievi agli affluenti Del lago di Chiusi La regione La giunta Disegna il nuovo assetto Dei dirigenti Perché Sono stati avviati Concorsi Per posizioni strategiche Dall'avvocatura Al settore welfare E nominati I dirigenti Della Proprio Regione Dalla protezione Civile Fino Al demanio E così Dicendo Il ministro Giovannini Di nuovo a Perugia Enti locali Decisivi Per il PNRR Prima la sala Dei notari Contese E i romizi Poi l'incontro In provincia Con proietti E vediamo anche Le notizie Con i siti web Le notizie Che sono Evidentemente Legate anche Sui siti Alla siccità Stretta sugli atteggimenti Per tre mesi Meteo Ancora grande caldo Questo è Umbria 24 Su Perugia Today Invece Il ministro Giovannini Per un'Italia E un'Umbria Publius Sostenibile E connessa Annuncia dunque Nuovi concorsi E dice Serve personale Su Tuttooggi.info 2.000 anni dopo La battaglia Del Trasimeno E per l'acqua Rival Fabrica E quindi La polemica Relativa Alla gestione Delle acque Su notizia Diretta Ci addentriamo Più nei territori Siamo a Dumbertid Dove c'è stata Una spaccata Con furto All'uso Come in Piattaforma Qualche giorno fa Secondo le prime Ricostruzioni Oltre ad essere State danneggiate Le porte E le vetrate Sarebbero state Portate via Qualche bottiglia Di birra E di prosecco Su Con la palestra Dell'artigianato Digitale Su TRG Media Invece Ancora una volta Gualdo Tadino Ma con La cronaca Incidente sul lavoro Si va a processo Per la morte Di Renzo Gatti Sollevata da ogni Irresponsabilità La titolare Della ditta Di trasporti Prima però Di vedere Le notizie Insieme con i quotidiani Vi mostriamo Un servizio Andato in onda Nel nostro Tg Sera A cura di Giacomo Branco Si parla di viabilità Con il punto Della Lega Gubbio Sulla SS Flaminia 3 Sentiamo Il perenne Cantiere Sulla strada Statale Flaminia 3 Con uscita Obbligatoria Cantiano Per chi transita Da Gubbio E impianto Semaforico Per chi proviene Dalle Marche Entro l'estate 2023 Vedrà il termine Dei lavori Con il primo Stralcio Già concluso Entro il prossimo Mese di luglio A renderlo noto Sono i consiglieri Comunali Lega Gubbio Michele Carini E Sabina Venturi Assieme al segretario Di sezione Luca Ramacci I quali Già da tempo Si stanno occupando Della questione Viabilità Che teneva anco Tra i cittadini Eugubini pendolari Che per motivi Di studio O di lavoro Fanno sponda Tra l'Umbria E le Marche E che sono costretti A fare i conti Con i disagi Relativi a traffico E rallentamenti Causati da prima Dei lavori Su viadotte Galleria Contessa E poi Dalla perpetua Situazione di stasi Nel tratto Che costeggia Cantiano Chiaramente Su sollecitazione Di numerosi cittadini Ci siamo informati Attraverso La nostra referente Provinciale Emanuele Apuletti E l'onorevole Marchetti Che è segretario Regionale Delle Marche Della Lega E attraverso Appunto Le istituzioni Regionali Marchigiane Finalmente Si ha almeno Una tempistica Di completamento Dei lavori In particolar modo La primo Lotto di lavori Sta terminando In questi giorni Poi riprenderà Successivamente Altri lavori Che comunque Vedranno il termine A fine luglio 2023 Quindi queste Sono notizie Chiaramente Incoraggianti Nel senso Che comunque Almeno danno Un'idea A quello Che si andrà Incontro E comunque Sia però È ovvio Il problema Contessa Il problema Flaminia Rimane Ed è molto Problematico Chiaramente Per chi la percorre Giornalmente Altra questione Aperta Riguarda La nuova Variante Piandassino Dove purtroppo Sono molteplici Gli incidenti stradali Anche i gravi O mortali E per cui Torna di stretta Attualità L'installazione Di un tutor Che regoli La velocità Entro i 90 Chilometri orari E anche questo È un problema Che oramai Da tantissimi anni Se ne parla Vorrei ricordare Che fu attenzionato Anche al consiglio Comunale La scorsa Sindacatura Sempre del sindaco Stirati Dove addirittura Si era quasi arrivati Anzi C'erano delle tempistiche Certe Per l'installazione Di tutor Sul tratto stradale Poi dal 2018 Se non ricordo male Ad oggi In nulla Ma questo Sempre è stato Motivato dal fatto Che c'è Un contenzioso In piedi Per quanto riguarda Lo sfruttamento E l'utilizzo Dei tutor Però verificando Attentamente Anche percorrendo Giornalmente Diverse strade Abbiamo potuto Verificare Che in alcune strade Statali Per esempio L'Adriatica Tra Fano e Pesaro E sempre l'Adriatica Tra Falconara Marittime Ad Ancona Sono stati installati Dei tutor Per la rilevazione Della velocità media Quindi Probabilmente Qui c'è qualcosa Che bisogna chiarire E quindi È indispensabile Un chiarimento E soprattutto Dare delle risposte concrete Ai cittadini Perché giustamente Chiedono sicurezza Su quel tratto di strada Ed è per questo Che tramite La nostra consigliera regionale Emanuela Puletti Abbiamo portato All'attenzione Dell'assessore regionale Melasecche Questo tema E quindi Nei prossimi consigli regionali Vedremo Dal punto di vista regionale Per quello che compete Cosa verrà detto Applicare Un sistema di controllo Chiaramente Applicando con buon senso E ben visibile Ben comunque sia segnalato Comporta chiaramente Una messa in sicurezza Del tratto stradale Ed ovviamente Il rischio incidenti Cara notevolmente Le notizie Dalle città Con la nazione Siamo a Perugia Con le strada Centro commerciale Stranger Nights Saldi Musica e cucina Proseguono gli eventi In occasione Dei saldi estivi Da oggi Tutti i sabati E le domeniche San Bevignate Riapre Dopo il restauro E Perugia Ritrova il complesso Templare Scalinata della Vaccara C'è il fashion show In centro Sfilano le creazioni Le creazioni degli studenti Del NID Il nuovo istituto Design Protagonisti con le creazioni Per donna e uomo Olivicultura Col diretti Umbria Giulio Mannelli Il presidente di APROL Quando la cultura Genera occupazione Museo della ceramica E pinacoteca Nuovi orari Assunzioni E più personale E poi invece Stamane L'inaugurazione Percorso multisensoriale Al museo archeologico Con il nuovo allestimento Lungo il Trasimeno Siamo a Magione Al via La rivoluzione Dei rifiuti Da lunedì Nuovi colori E contenitori Per aumentare La differenziata I sacchi Sono dotati Di un microchip Capace Di identificare Gli utenti Sempre a Magione Riparte La festa Del raccolto Ai molini Fagioli A Castiglione Del Lago Via Romea Germanica Il sindaco Burico È nel direttivo Dell'associazione Ad Assisi Il turismo Si gioca una carta in più Santa Maria degli Angeli Oggi apre L'ufficio Accoglienza e informazioni Servizio essenziale Per chi arriva Nello specifico L'info point Sarà legato A quello centrale Di Assisi Per supportare Visitatori E pellegrini A Santa Maria Erbalta All'asilo È stata già tagliata Il vice sindaco Stoppini Dice È stato rispettato Un programma Preciso Un preciso Cronoprogramma A Todi Ruspolini Presidente Ruggiano Gli dice Grazie Il generale Eletto Alla guida Del consiglio Comunale Dopo le tante Polemiche Entrano Nuovi Consiglieri A Bassi A Umbra No strumentalizzazioni Sul bonus Facciate Il vice sindaco Fratellini Replica La Lega Dopo i dubbi Sollevati Da alcune Circolari Siamo a Gubbio Si parla di parcheggi Una gestione Tutta nuova La Gubbio Multicultura Multiservizi Ha perso La gara d'appalto Aggiudicata Ad una ditta Di Perugia Con polemiche Leggendo proprio Qualche passaggio È destinata A cambiare Il riferimento La gestione Di parcheggi A pagamento Presenti Nel territorio Comunale Organizzati Da tempo In piazza 40 Martiri Piazza Le Frondizie Via del Teatro Romano Compresa In alcuni periodi Dell'anno La zona Antissante Il celebre Monumento Si è conclusa Da qualche settimana Con la giudicazione Da parte Di una società Del perugino La gara indetta Nei mesi scorsi Dall'amministrazione Comunale Con un seguito Di distingo E di polemiche Politiche Nello specifico In città Parte il confronto Sul futuro Di sistema museale Farmacie Perché La strada Della gara Ad evidenza pubblica Adottata per i parcheggi Ci si chiede Non potrebbe essere Aperta anche Per musei E farmacia Perché per i parcheggi Sì Medicinali E cultura No Si chiedono alcuni Qual è la differenza E su questo Sarebbe per partire Un vivace confronto Forse fin dal prossimo Consiglio comunale Perché la gubbio Cultura e molti servizi È la società In house Con l'intero capitale Sottoscritto dal comune Che gestisce anche La rete museale E la farmacia Comunale A titolo informativo La gestione dei parcheggi Nell'anno 2021 Ha fruttato Un introito Il 52% Finisce nelle casse comunali Di 454 mila euro Con un incremento notevole Rispetto all'anno precedente E dunque C'è anche Tra l'altro Il gruppo Lega Ha presentato Un'interpellanza Per sollecitare Una informativa Sull'azione di responsabilità Nei confronti Dei soggetti Che coprivano Cariche societarie Alla ricapitalizzazione Della Gubbio Cultura E molti servizi Sempre da Gubbio Poi Il lutto La città Dall'addio a Giulio Berettoni Maestro elementare D'ex calciatore Rosso Blu Era conosciuto da tutti E scomparso purtroppo Dopo una lunga malattia Per tanti anni Protagonista della vita Cittadina Berettoni Ad un marito Ed un padre affettoso È stato anche Un pezzo importante Della Gubbio Calcio A Gualdo Tadino Invece di nuovo La notizia Che riguarda La scritta offensiva Novax Sotto casa del sindaco È stata trovata Da moglie E figlia di Presciutti Lui è in pellegrinaggio E ha detto Andro avanti Con più forza A Nocera Umbra Per piazza Umberto I Arriva la ZTL Il comune infatti Ha deciso Le limitazioni al traffico Nel periodo estivo E ci sono dunque Nuove regole A città di Castello L'ospedale Perde la farmacia Diritti negati Ai pazienti La regione annuncia Il taglio Del servizio Tifernate E lo centralizza Perugia Polemiche In città I medicinali Arriveranno Ogni 15 giorni Ci si chiede Che fine faccia La continuità Anche la politica Se lo chiede Arcaleni e Brunelli Nello specifico Dicono È uno stravolgimento Inaccettabile Del sistema Ancora da città di Castello Manifestazione dal 14 al 17 luglio Torna la battitura di Piosina E si va alla riscoperta Delle tradizioni Movida e schiamazzi notturni Alla fine arriva la polizia Sempre nella città Tifernate Gli agenti sono intervenuti A Madonna del Latte Gruppi di ragazzi Sono stati identificati Per la cultura La pinnacoteca C'è la cena Il palio Il centro allora si risveglia Due giorni di eventi in serie Partendo dai 110 anni Della prestigiosa collezione Via Alfonsine Rotatoria Troppo pericolosa La segnalazione Dei consiglieri Roberto Marinelli E Tommaso Campagni Un'interrogazione A sindaco E giunta A Dumbertide Invece l'esperienza Di Orti Felice Così vince il lavoro Di squadra Ne abbiamo parlato Anche di questo argomento In un servizio A cura di Elena Caruso Sentiamo È stato celebrato Questa mattina A Dumbertide Il primo anno Di attività Della nuova serra comunale Orti Felici Destinate ai disabili All'evento erano presenti Il sindaco Luca Carizia L'assessore Alle politiche sociali Sara Pierucci La direttrice Del distretto Alto Tevere Dell'Uslumbria 1 Daniela Felicioni Il presidente Del Gala Alta Umbria Mirco Rinaldi Il segretario generale Della fondazione Cassa di risparmio Di Perugia Fabrizio Stazzi La presidente Della cooperativa Asad Dall'Iana Cicchia E la responsabile Territoriale di Asad Monica Nanni La struttura Era stata inserita All'interno Del progetto Di riqualificazione Della ex draga Del fiume Tevere E dopo interventi Costati 190 mila euro Finanziati dal Gala Alta Umbria E dalla fondazione Cassa di risparmio Di Perugia Era stata consegnata Alla città Il 29 ottobre Del 2020 Offrendo così Un importante servizio Socio assistenziale Il cui uso È stato dato in concessione Dal comune di Umberti Dalla Umbria 1 All'interno della serra Orti Felici L'occupazione principale Legata prevalentemente All'agricoltura Gli ospiti del centro Socio riabilitativo Arcobaleno Insieme agli operatori Educatori Della cooperativa Asad Svolgono la loro attività Durante tutto L'arco dell'anno Come una vera e propria Azienda agricola L'ortoterapia infatti Ha degli effetti benefici Sulla mente Sul fisico Vari studi ed esperienze E testimoniano Un miglioramento Dello stato di salute Delle persone coinvolte Attraverso le attività Del verde La coltivazione di piante E ortaggi Attività che si basano Sulla stimolazione D'esensi E l'esercizio fisico Mi è piaciuto Perché Prima di tutto Mi piace La coltivazione L'orto E poi Questi sono i fagioli Che abbiamo usato Questi li abbiamo seminati Messo prima Li abbiamo seminati Mi sento bene Perché mi piace Mi piace Mi piace far tutto Qui Le persone disabili Manipolano la terra Piantano semi Annaffiano Curano E coltivano Piante Apprendendo Nell'origine Le caratteristiche Ma non solo Successivamente Possono anche Consumare E vendere I prodotti Dell'orto Inoltre Grazie a tanti progetti Attivati in collaborazione Con le realtà Del territorio Come le scuole Di Umbertide La Fipsas Il mercato della terra Slow food Alta Umbria Ed altri La sera è diventato Come è stato definito Un centro di vita Un punto di riferimento Per il paese Assolvendo quindi I due compiti Importantissimi Di inclusione sociale E inserimento Nel mondo del lavoro I nostri assistiti Che avevano appunto Hanno sviluppato Delle abilità E delle competenze Che li hanno portati A lavorare A produrre A conoscere Le varie coltivazioni Grazie alla collaborazione Con gli operatori Educatori E operatori Esperti Della cooperativa ASAD E il nido Dei petti rossi Sulle attività Agricole Che si sviluppano All'interno Di questi orti Questa è una serra Di comunità Per cui sicuramente Il punto di forza È aver creato Un'opportunità Per le persone Che hanno delle fragilità Questa valenza Che è l'agricoltura sociale Che è quella appunto Di essere sia Un progetto terapeutico Riabilitativo Ma anche la costruzione Di un percorso formativo Per arrivare poi All'inclusione lavorativa Perché poi è questo L'obiettivo principe Sicuramente Per tanti di questi ragazzi Che si trovano qui In questa Ad operare In questa serra L'agricoltura sociale Sicuramente ha Il vantaggio Di poter rispettare I tempi delle persone E poi anche Di poter mettere in piedi Attività che possono essere Più consone Sicuramente A quelle che sono Anche le particolarità Dei ragazzi A Foligno Sempre con le pagine Della Nazione Sorgenti prosciugate Ma sopra I minimi storici Mancanza di pioggia E gran caldo Influiscono Inevitabilmente Sulle portate idriche Che restano però Al di sopra Delle soglie Di vera e propria Emergenza Pamela Villoresi Celebra Pasolini C'è il recital All'abbazia di Sassovivo Prima esecuzione assoluta Su commissione Degli amici Pretende soldi Da un conoscente È stato arrestato Per estorsione Mentre era già Ai domiciliari Teatro amatoriale Ci sono sei spettacoli Selezionati nel festival E poi la raccolta Rifiuti L'appalto è in scadenza Si chiedono Lumi sulla sorte Dei lavoratori A Spoleto Pochi parcheggi Per le motociclette Alto rischio Di multe per i centauri Con limitati posti A disposizione E strutture coperte Addirittura vietate L'auto della scorta Di Giovanni Falcone Ai giardini Di Viale Matteotti Simbolo di illegalità Lunedì Interventi Sulla rete idrica Anche per contenere Gli sprechi Sono previste interruzioni Della distribuzione Con le zone interessate Danza ipnotica Sempre a Spoleto Circo In teatro d'autore I tanti volti Del festival Dei Due Mondi Che prosegue Con sorprese e novità E poi 5 escursioni Nelle ricchezze Della città Domani La visita guidata Al tempietto Sul Clitun A Terni Acciaio Mercato debole Sarà fermata Lunga All'ast Numerosi impianti In stand by Per tutto agosto Ma senza cassa integrazione Le RSU Dicono Spazio alle manutenzioni Nessun problema Produttivo A settembre Violenza sessuale Su una ragazza Gli chiese Una dose in casa Espulso Un pericoloso Pregiudicato Per CNA Mirco Papa Il nuovo presidente Dice Le imprese in crisi Hanno bisogno Di linee di credito Servono misure regionali Che ne favoriscano L'accesso Ancora ad orvieto Con la nazione Capitale della cultura Si comincia Il consiglio comunale Incontro alle due manager Incaricate Di predisporre I dossier Per la candidatura La città In mostra Nelle piazze romane Sempre ad orvieto Patrizio Angelozzi Intanto È il direttore sanitario All'ospedale Santa Maria Della Stella A Terni La fondazione Rifà L'anfiteatro Ci spostiamo Con il messaggero A Perugia Errori per la plastica Soldi buttati L'appello di Geseno Differenziare meglio Per spendere Tutti di meno Decalogo Per indicare Il cassonetto giusto Così si rischiano Tanti sprechi Andrea Tomassini Dall'Albodoro Al Cento Elode Preso alla maturità Questa bella storia E poi la vita di quartiere Piano Antibu Che dai conservoni Alla Cugnano Spuntano nuovi appelli C'è chi segnala Che ha la fresca asfaltatura Non basta E c'è chi protesta Per i pericoli Aggredisce gli agenti Clandestino Preso davanti al locale etnico In via Campo di Marte A Perugia I residenti sono esasperati E dicono Esco con il cane E devo passare In mezzo agli spacciatori A Città di Castello Non può dormire Per le ore dal parcheggio La polizia Allora ha silenziato Si fa per dire Un gruppo di giovani C'è l'inchiesta Palto ambulanze 13 indagati Per i trucchi La procura di Pavia Hanno vettificato 13 avvisi Di chiusura delle indagini Ad ex dirigenti Dell'AST Di Pavia E amministratori First Aid Una cooperativa Con sede legale A Pesaro Per un'inchiesta Che nel marzo del 2021 Aveva portato All'arresto Di quattro persone Nonché all'esecuzione Di perquisizioni Sequestri Di documentazioni Apparati informatici Non solo in Lombardia Ma anche Marche Lazio e Sicilia Strozza Caponi Serata con i ladri In casa Ancora allarme Nei giorni scorsi Colpi e presenze Sospette A San Sisto E a Pianello Per il pianeta giovani Un gruppo estivo Che diventa una piccola ONU Un capolavoro Di amicizia E inclusione Sulla Chiesa Di San Barnaba E sulla bella iniziativa Che si è tenuta Proprio negli scorsi giorni Con tutti i giovani Del Grest A Gubbio La rabbia Per Italia Gli autobus Per Branca Niente corse Nel primo pomeriggio E l'ultima della sera Proteste con Bus Italia Per la mancata informazione Sui nuovi orari A Gualdo Tadino Di nuovo Le scritte Novax Vicino a casa Del sindaco Presciutti Ed un vertide Lo abbiamo sentito Poco fa Per Orti Felici Un anno di soddisfazioni A Città di Castello Dopo due anni di stop Torna la mostra D'arte presepiale Ad assesi il bilancio In tre anni Raddoppiati gli iscritti All'Istituto Superiore Di Scienze Religiosi A Todi invece Subito mobilitazione Per intitolare Una via o una piazza A Patrizia Cavalli A Foligno Un cavallo Per salutare Slim Ieri i funerali Di Roberto Valentini Morto ad 89 anni Per omaggiarlo Anche uno dei suoi amati animali Tra i campioni di giostra Innocenzi e Cruciani Anche Metelli Che dice lui Presidente ideale Della Quintana Estorsione dai domiciliari Dammi soldi o tipicchio Anche il messaggero Riporta questa notizia Di cronaca E poi la battaglia Per la diga La regione Replica i sindaci Dice l'acqua Anche in Valle Umbra Andiamo ancora avanti Siamo a Spoleto Dove le frazioni Sono nel mirino Dei ladri Tra Zano Beroide Sambrizio Si moltiplicano Le segnalazioni Dei furti in casa In alcuni casi Malintenzionati Hanno agito Incuranti Della presenza Dei proprietari Leonardo Falasca Il nuovo presidente Del Lions Club Di Spoleto La vedova Montinaro Che teca di Capaci Monito Contro l'indifferenza Per lo sport Ducato Scatenata sul mercato Preso anche L'ex Spoleto Di Salvador A Terni Ast cala la produzione Chiudono gli impianti L'azienda Comunicato all'RSU Che non ci sarà La cassa integrazione Altre mansioni Per gli operai Palazzo Spada Tavoli all'aperto Arriva la proroga Fino a settembre Per la sicurezza Violentò ragazza Scarcerato E accompagnato Alla frontiera Un tunesino Di 52 anni La polemica Troppi cani al parco Scoppia la lite Con i padroni Siamo sempre A Terni Siccità Il lago di Piediluco Regge e bene Il bacino Rappresenta ancora Una mosca bianca Rispetto a quelli Del centro Italia Come certifica L'Enel Ed invece Ad Orvieto C'è l'allarme Per il piume Per il piume Paia Perché è sempre Più in agonia Mai così bassi I livelli Delle acque Ancora ad Orvieto La notizia per la sanità Il dottor Patrizio Angelozzi È nominato Nuovo direttore sanitario La storia A San Gemini Autista del bus Di linea Fa salire Due cani lupo Che si erano Persi L'episodio è accaduto Nello specifico Lungo la tratta Tra San Gemini E Terni Provati dal caldo E dalla camminata Sotto al sole Hanno subito accettato L'aiuto Accettato Scusate L'aiuto Scodinzolando Sempre con il messaggero Gli eventi Il Due Mondi Europa e America Due Mondi uniti Dalla musica Ma si parla anche Di grande danza Con il festival Che si fa per tre E poi per l'agenda Invece Una notte dai due volti Ci sono a Corsi E Brunori L'attore Emiliano Porterà l'Orlando A Solomeo Mentre il cantautore Sarà protagonista I giardini del frontone Di Perugia Per il festival L'Umbria Che spacca L'ultima fatica Di Nino Manfredi Invece aprirà Il festival Delle Nazioni A Città di Castello Al Rotary di Todi E' stato riconfermato Pace Le piscine a Terni Tornano a fare il pieno Dopo due anni Questa è sempre Un'altra notizia Con il messaggero Boom di affluenza Proprio nella città di Terni A Narni Parte il Narnia Festival Ci sono dieci eventi Tutti dedicati Al bel canto E all'opera E poi sempre a Narni La corsa delle carrette Una picchiata È di oltre un chilometro Ad alta velocità Vediamo anche le notizie Con il Corriere dell'Umbria Da Perugia Con Erlink Subito 100 passeggeri In più Per questo nuovo servizio Primo giorno Di connessione Fra treni Autobus Aeroporto Opere di pavimentazione Tra Ulmo e San Faustino Raccordo Due rampe Chiuse per un giorno E poi invece Andando avanti Ma sempre su Perugia È senza Green Pass Parapiglia In ospedale Un'italiana di 50 anni Prova ad accedere Senza certificato All'alt Daini Scandescenze E morde Un addetto Alla sicurezza È stata fermata Con le manette Il processo Mori intossicato Da monossido Collega a giudizio E poi ancora I ride dei ladri Nelle abitazioni Le segnalazioni Al giglio Schiacciato dal muletto Indagato per omicidio Colposo Chiuso il fascicolo Sul decesso Di Renzo Gatti Titolare di un'azienda Di smaltimento Di rifiuti elettronici A Guadotadino Ancora da Perugia Scivoli Tunnelli E percorsi d'acqua Ci sono 40 mila euro Per le aule outdoor È approvato il progetto Per il tiglio Il vice sindaco Tuteri Dice più interazione Tra bambino e ambiente Riapre invece Come detto Dopo i restauri Il complesso di San Bevignate A Città della Pieve Sono stati presentati I primi due distretti Del Cibo Sono quelli dell'area Trasimeno-Corcianese E quello del sud-ovest Orvietano Sinergia fra imprese E istituzioni A Santa Maria degli Angeli Il nuovo infopoint Per i turisti A Bastia Umbra Il sì unanime Del comune All'adesione al programma Città amiche dei bambini E sempre ad Assisi C'è la rievocazione Della battitura del grano Tra canti e balli popolari A Todi invece La politica Cinque volti nuovi In consiglio comunale Entrano al posto Dei dimissionari Primieri Baglioni Marta Ranchicchio E Pagliochini Nominati assessori Museo regionale Della ceramica E Pinacoteca De Ruta Cambiano il gestore Fino al 2025 Saranno gestiti Dalla società Opera Laboratori Fiorentini A Marsciano Estetista E operatore Elettrico Ci sono i corsi Riservati Agli under 17 Entrambi gratuiti Iscrizioni Aperte Tutta l'estate A Città di Castello Lavori in una casa Il San Secondo Resta diviso a metà Chiusa la strettoia Nella frazione Alle porte Della città Tifernate Da lunedì Fino al 16 Luglio E quindi È modificata La viabilità Ex assessore Al bilancio Tofanelli Lascia il PD Per la politica Ha detto Sono deluso Da questo partito Ma non abbandono La politica E sulla sanità Arcaleni Invece interviene E dice Tempi infinite Per visite Ed esami Sempre da Città di Castello Alessio Tomasucci È il presidente Del Rotary Club Pane a chilometro zero Per la festa Della battitura C'è la rievocazione Di Piosina La farina Per realizzarlo Arriva dal grano Seminato in loco E macinato a pietra La ricorrenza Per i 110 anni Della pinacoteca Con la fotografia Da record E poi invece Di nuovo Per un vertide Serra per persone Con disabilità Molini popolari Regala Millebulbi Di Zafferano Siamo a Gualdo Tadino Scritta Novax Sotto casa del sindaco Presciutti Da Gubbio invece Consegnate a Babbo Natale Le letterine Di 70 bambini E tre carabinieri Sono arrivati in Finlandia Dopo 12 mila chilometri In Vespa E c'è anche la messiva Di Caterina Benanzi Andiamo ancora avanti A Foligno Di nuovo la notizia di cronaca Dammi soldi o te ne pentirai Torna in carcere Un uomo di 32 anni Che era già ai domiciliari Per la cultura Appuntamento a teatro Nella corte di Palazzo Trinci Sette spettacoli A partire da mercoledì prossimo Conduttura perde acqua Da settimana I residenti dicono Che è via privata Ancora nessuna soluzione Per il guasso avvenuto Ad una tubatura In via Benevento Sulle poste chiusi A col fiorito Dicono Lo sportello Riaprirà Entro la metà di agosto Dopo le proteste La direzione regionale Rassicura dunque Gli utenti Sempre a Foligno Agli orti orfini Festa di fine anno Per i bambini Dei nidi comunali A Bevagna La Sagrantina 450 partecipanti Alla passeggiata Enogastronomica A Spoleto Il festival Nel segno della danza E di nuovo la notizia Che c'è in mostra L'auto della scorta di Falcone Per non dimenticare E questa notizia Che fa riferimento Sempre alla città di Spoleto Povertà Caritas Serve 5.800 passi Nei primi 4 mesi Dell'anno A Terni Ancora Asta Fermata più lunga In estate L'azienda ha fatto il punto Con i sindacati Sugli effetti Che la crisi ucraina Sta causando Sui mercati internazionali La segnalazione Del movimento 5 stelle Patina marrone Sulla fontana Dello zodiaco A Terni I 5 stelle Invitano L'amministrazione comunale Ad intervenire E poi ci sono I rinforzi In arrivo per la polizia Assegnati Sette agenti E assistenti Ancora da Terni CNA Imprese in affanno Calano liquidità E personale qualificato Lo dice Mirko Papa Il presidente Che chiede misure Per favorire L'accesso al credito Sempre da Terni Corrado Montecaggio Campione del mondo Anantes Il Ternano Si è giudicato Il titolo paralimpico Di calcio balilla Nella categoria Sindaco Miss Italia Primo casting In piazza Tacito Il Torumbro Ha fatto tappa in città In 29 Si sono presentate E poi Filippo Corneli Che ha festeggiato I primi 40 anni Del bar Aci Sempre con il corriere Siamo ad Otricoli Bando ONU Sul turismo Otricoli è in campo Il borgo Candidato a rappresentare Littani Insieme ad altre due località Si attendono I fondi del PNRR Orvieto invece Si prepara Per la capitale Della cultura Il sindaco Ha incontrato Capigruppo e consiglieri Per portare avanti Questa iniziativa Definita Bipartisan Sempre ad Orvieto C'è la donazione Al centro di urno Il girasole Con un progetto Del Rotary Club Per aiutare Chi non riesce Ad esprimersi verbalmente E il riconoscimento Per il Museo Faina Alla struttura espositiva Infatti è stato assegnato Il marchio Umbria Culture For Family Ora una pausa pubblicitaria E poi torniamo Con tutte le notizie Dello sport